amici e amiche di bpm power ben trovati e ben trovati anche voi giocatori vi avevamo parlato proprio qualche giorno fa dell'ultimo gioco gratuito rilasciato da epic games store dandara trials of fear edition andate a recuperare quel video se lo volete scaricare per chi non lo sapesse epic games sta regalando praticamente un gioco alla settimana a natale ha anche esagerato regalando ben più di un gioco arrivando a sganciare gratuitamente capolavori come alien isolation e jurassic world evolution ci sarà un altro gioco gratuito la prossima settimana ma ve lo diremo tra qualche giorno nel mentre vi dico già che epic games ha comunicato ufficialmente che per tutta la durata del 2021 avremo un gioco gratuito alla settimana sostanzialmente prorogando nuovamente l'iniziativa dei giochi gratis per tutto l'anno corrente non è una splendida notizia questo è il terzo anno dell'iniziativa che va a coronare i 160 milioni di utenti pc dello store di epic che ha visto un incremento del 192 per cento nell'ultimo anno ci saranno anche miglioramenti per questo client in arrivo come nuove interfacce con i social gli obiettivi profili giocatori e molto altro ancora vi lasciamo il link allo store in descrizione così potete andare a fare spazio sul vostro pc già adesso per tutti i giochi gratis che arriveranno a breve mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale a e o non dimenticate di seguirci anche sugli altri social ciao alla prossima